Ehi dico te, no no, non far finta di nulla adesso, si ti abbiamo visto, eh sei il solito, continui, continui a sbagliare strada, vuoi capire, vuoi capirlo che bisogna tornare a quello che ci fa, che ci faceva stare bene prima, il network marketing, i corsi, i ricorsi, gli stage, tutte queste cose qua, non vanno più bene, lasciano il tempo che trovano, un po' come la tua vita mediocre, no no bello, non ti sto provocando, sto soltanto dicendoti che adesso la musica la facciamo noi, affidati, affidati al nuovo marketing, quello vero, camicia, questa, la stessa lente che sto indossando, l'abbiamo venduta agli indiani, ok, 382 indiani abbiamo venduta a 85 centesimi, sai cosa è successo? Si sono quadruplicati, si sono aumentate le entrate in una maniera vertiginosa alla faccia dei tuoi guru, vuoi capirlo? Sai qualcosa cosa è successo? È successo che la vendita è come andare al bagno, andare ai servizi, lo vuoi capire? Vien da sé, viene naturale, è il sé superiore che ti aiuterà, ok? Questa mano, ne ho due, l'ho venduta qualche settimana fa, a 95 centesimi e 42, ok? Niente di più naturale, e allora, sai, ti do un consiglio, inizia a seguirci sui nostri canali Instagram, inizia ad aprirlo questo terzo occhio benedetto, ok? Ti renderai conto che la tua vita ha un qualche senso, grazie a noi, seguici avanti, forza e din din, capisci, ragiona, intuisci e liberati.